Minori e mass media, rischi e opportunità della comunicazione digitale. Ascoltare è difficile, a volte è preferibile essere sordi piuttosto che ascoltare. Sono le parole del professor Luigi Sparapano, responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi Molfetta, Ruvo Giovinazzo Terlizzi, in apertura della conferenza dal titolo Comunicazioni e Misericordia, i rischi e le opportunità di internet, tenutasi il 2 maggio 2016 nell'auditorium della scuola Cotugno Giovanni XXIII, organizzata in occasione della cinquantesima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Protagonista dell'incontro è stato il professor Roberto Borraccia, criminologo e docente di criminologia e informatica all'Università Suororsola Benincasa di Napoli. Un tema assolutamente attuale, questo ruolo dei social network, abbastanza contraddittorio a volte, lo affrontiamo dal punto di vista del rapporto tra mass media e minori? I minori sono i maggiori fruitori dei social, della rete. Occorre chiedersi se tutto il materiale che circola in rete sia adatto a loro e cosa si può fare perché questo materiale sia fruibile, sia fruibile a seconda dell'età e non induca dei fattori negativi in danno dei minori. Poi una situazione molto importante può essere uno strumento per gli insegnanti, per completare la formazione che si dà in aula, in classe? Certamente è un validissimo strumento perché può raggiungere in tempi differenti dai tempi scolastici, può raggiungere l'alunno, l'allievo in maniera anche più tranquilla, più serena rispetto al tempo scolastico. È un qualcosa in più che va sfruttato. Esistono lezioni, so che per esempio a Bari c'è una scuola media che consente questo differimento del momento educativo rispetto all'orario scolastico canonico. Anche lì gli insegnanti devono fare estrema attenzione all'utilizzo che poi eventualmente gli alunni possono avere anche durante le ore di apprendimento. Indubbiamente, l'insegnante va anche a sua volta formato, va motivato perché comunque insegnare, formare è una grande missione e va sostenuta. Il tema del dibattito è stato il rapporto tra i giovani e i social network che spesso rappresentano un'arma a doppio taglio. L'esperto si è occupato di presentare ai giovani e agli adulti presenti il mondo delle comunicazioni digitali. La comunicazione, ha spiegato il professore, è condivisione e ascolto di ogni parola o gesto ma ha anche desiderio di comprendere soprattutto un dono di Dio ed una grande responsabilità. È proprio attraverso i social media che i giovani consumano crimini informatici e anche di grande portata come il cyberbullismo, il sexting e altre violenze che raramente sono denunciate. Il bullo, apparentemente forte, nasconde dentro di sé una debolezza e un disagio di fondo che sfocia sull'altro mediante vessazioni o cercando di prevalere con la forza eliminando così ogni possibilità di rapporti interpersonali. La vita virtuale va vissuta consapevolmente, conoscendo i rischi e le opportunità che internet e i social network possono offrire. I giovani e le famiglie vanno educate alla legalità partendo dalla comunicazione reale per poi arrivare a quella virtuale.